Ci sono situazioni in cui abbiamo più di una disequazione e queste disequazioni devono essere tutte verificate contemporaneamente. Per esempio mi si può chiedere che la quantità 3x-2 sia positiva ma anche minore o uguale a 4. Come scriviamo queste condizioni e come troviamo le soluzioni? Ciao, io sono Claudio e tu sei su QI Matematica. Vogliamo scoprire per quali valori della x sono vere queste due disuguaglianze. 3x-2 è positiva, ovvero maggiore di 0, 3x-2 è minore o uguale di 4. E vogliamo che queste disuguaglianze siano entrambi verificate. Bene, quando vogliamo combinare due o più disequazioni, che devono essere tutte verificate, si dice che abbiamo un sistema. Graficamente indichiamo la presenza di un sistema racchiudendo in una parentesi graffa le disequazioni che ne fanno parte. Attenzione, in questo primo esempio, per semplicità, i membri sinistri delle disequazioni sono uguali, ma non è necessario che lo siano, potrebbero anche essere diversi. E adesso, come risolviamo questo sistema? Prima di tutto dobbiamo trovare le soluzioni delle due disequazioni. Le possiamo risolvere distintamente, una alla volta. Risolvendo la prima troviamo x maggiore di 2 terzi, mentre risolvendo la seconda troviamo x minore o uguale a 2. Scriviamo allora le soluzioni di queste disequazioni in un nuovo sistema. Ora, come possiamo trovare le soluzioni del sistema, ovvero i valori della x che rendono vere entrambi le disequazioni? Pensiamolo dal punto di vista insiemistico. Abbiamo l'insieme delle soluzioni della prima disequazione, ovvero tutti reali maggiori di 2 terzi. E abbiamo l'insieme delle soluzioni della seconda disequazione, ovvero tutti reali minore o uguali a 2. Le soluzioni del sistema, cioè le soluzioni comuni alle due disequazioni, appartengono all'intersezione dei due insiemi. In questo caso è semplice capire da cosa è composto l'insieme intersezione. Per scrivere più sinteticamente queste soluzioni, possiamo immaginare di invertire la prima disuguaglianza, per cui viene 2 terzi minore di x, e poi possiamo fare la contrazione delle due disequazioni, scrivendo 2 terzi minore di x minore o uguale di 2. In italiano possiamo leggere questa scrittura dicendo che x è compreso tra 2 terzi e 2, con 2 terzi escluso e 2 incluso. Proviamo a fare la stessa intersezione, ma graficamente. Tracciamo una retta dei numeri reali, su cui riportiamo i valori che ci interessano, 2 terzi e 2. Sotto rappresentiamo, con la convenzione che abbiamo visto nel video precedente, gli insiemi di soluzioni delle due disequazioni. Nella prima disequazione abbiamo una semiretta che parte da 2 terzi e va verso destra, ma priva del punto di origine. Mentre nella seconda disequazione abbiamo una semiretta che parte da 2 e va verso sinistra, e comprensiva del punto di origine. Ora, dove sono le soluzioni comuni alle due disequazioni? Si troveranno nelle intervalli in cui entrambi le semirette sono presenti, quindi tra 2 terzi escluso e 2 incluso. Tracciamo quindi un'altra retta in cui andiamo a colorare il segmento dato dall'intersezione delle due semirette. Attenzione ai pallini, vuoto per 2 terzi perché non è presente nella prima semiretta, pieno per 2 perché è presente in entrambi le semirette. Nota che in questo caso la rappresentazione delle soluzioni del sistema non è più una semiretta, ma un segmento in cui però uno dei due estremi non è incluso. Adesso scriviamo questo intervallo come disuguaglianza partendo da sinistra e andando verso destra. E abbiamo 2 terzi minore di x minore o uguale di 2. Riassumendo, se abbiamo un sistema di disequazioni, quindi un insieme di condizioni che devono essere tutte soddisfatte, prima risolvo le singole disequazioni e poi trovo le soluzioni comune facendo l'intersezione degli insiemi delle soluzioni. Questa intersezione la posso trovare ragionando sulle disequazioni, oppure graficamente trovando le intersezioni delle semirette rappresentanti le soluzioni delle due disequazioni. In ogni caso, quello che troviamo sono solitamente intervalli, ed esiste un modo molto sintetico per rappresentare degli intervalli di numeri reali, ma di questo parleremo in un prossimo video. Ciao! Grazie a tutti!